Puntuale come ogni anno, dopo le prime piogge, cede la via Olisse in contrada San Marco. Lavori in corso questa mattina per sistemare il manto stradale, l'ultimo, l'ennesimo intervento tampone per una strada le cui condizioni peggiorano di anno in anno. Risale a poco prima della passata stagione balneare dello scorso mese di giugno l'intervento precedente. In passato, infatti, soltanto in estate si è corso il ripari in barba ai residenti della zona e ai proprietari degli stabilimenti balneari e di conseguenza i loro fruitori, che d'inverno hanno sempre avuto difficoltà a raggiungere il litorale. Da decenni i residenti chiedono un intervento risolutivo che non è mai arrivato, si è proceduto infatti di rattoppo e rattoppo. Adesso, col nuovo assessore ai lavori pubblici Roberto Locicero, si spera che qualcosa si smuova. Intanto i mezzi meccanici sono all'opera per riempire la voragine creatasi e rendere nuovamente transitabile la via Ulisse. Essendo un geologo, l'appena insediato assessore Locicero ha già dichiarato di voler approfondire personalmente, attraverso un apposito studio del terreno sottostante, le cause del cedimento della strada e di stilare un relativo progetto che, una volta per tutte, eviti che l'arteria sprofondi inesorabilmente ogni anno. Il problema è, come sempre, quello legato ad un eventuale finanziamento dell'intervento. Un'opera di messa in sicurezza definitiva del genere comporterebbe infatti una spesa non indifferente e l'assessore Locicero si è già impegnato anche in tal senso, provando a reperire lì dove è possibile un finanziamento utile a risolvere la questione. Grazie. Grazie. Grazie.